Un antichissimo mito greco racconta che Dana è un figlio da Zeus e lo chiamò per Zeropo. Il padre della giovane, Acrisio, re di Argo, era stato informato da un orato che un giorno il nipote lo aveva ucciso. Aveva cercato di prevenire le venti, imprigionando la figlia in una tetra torre, ma il padre degli lei si era ugualmente congiunto a lei sotto forma di una pioggia sottile. Dopo la nascita del figlio, Acrisio rinchiude le donne in piccole in un'imbarcazione e le abbandona alla furia del mare. La lirica di Simonide ritrae il tumulto dei sentimenti che agitano il cuore della madre angosciata. In antitesi con l'inconsapevole sonno del piccino, dolore, apprensione, paura, tenerezza, speranza, si alternano in un canto mirabile che trascolore infine in una doccia di Naman e in una corata preghiera. Questi versi antichissimi e immortali ci commuovono in profondità e quando pensiamo al dramma delle gallette del mare con il loro indicipile calco di sofferenza umana, intuiamo con sto momento che il nostro mondo civile ed evoluto non è così diverso da quello spietato dei tempi accadili. Dedichiamo dunque questa poesia a tutte le donne di cui non conosceremo mai il volto, né il nome, che lasciano con dolore la loro terra nella speranza di una vita migliore e chi in un naufragio perdono i loro bambini e con loro probabilmente la loro unica ragione di vita. In sottofondo ascolterebbe un antico canto romo, Eder Lezio. Il titolo si riferisce alla festività serba Eder Lezio che celebra la primavera. Il canto fu composto da uno più anonimi prigiamieri serbi sulle tratti in cui, nel maggio del 1942, vennero deportate a migliaia da Sarajeva e Yesanovac, famigerato campo di sterminio, allestito e ferocemente incestito dai fascisti, Ustascia di Antibaglia. Il canto fuorio e nasce il campione di sessore, Andrew Calone anche un figlio per il bambino detto, il signore che andava il vacabile il saco di lotta למ�ia e 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